questa nuova estrazione si chiama vita e morte in che cosa consiste si può vincere un cos'è questo vediamo un po sta caricando si può vincere un rpd si chiama elisir dorato è un'arma epica si può vincere un paracadute sempre con nome elisir dorato vedete ha una mimetica in movimento si può vincere uno zaino sempre elisir dorato si può vincere un biglietto da visita chiamato anzi questo è un avatar chiamato rifornimento si può vincere un'ascia epica sempre elisir dorato con mimetica in movimento si può vincere un biglietto da visita chiamato rinascita si può vincere un carro armato chiamato elisir dorato molto bello sempre con mimetica in movimento oppure le tre cose principali che si possono vincere sono le seguenti abbiamo un emote in cui il personaggio ha dei cocomeri o delle angurie si può vincere un una nuova skin chiamata samael molto particolare con zaino già incorporato a quanto vedo oppure si può vincere un'arma leggendaria è il chilo 141 è particolare perché non sembra sparare proiettili ma liquido sembra sparare gocce d'oro che ovviamente trasforma i nemici in oro che viene liquefatto va bene io farò soltanto 30 cp di questa estrazione vediamo se uno è fortunato è fortunato ma io non lo sono la facciamo fra 3 2 1 per quanto tempo si può vincere un'arma